buongiorno a tutti ben ritrovati in questo video io mi sono quasi sentito in dovere di fare questo video subito per ringraziare tutti coloro che hanno espresso fiducia nei miei confronti tutti coloro che si sono già iscritti al canale e veramente sono stato sommerso di messaggi che indicano che insomma questo evento era davvero un po e te atteso e ora sono tutti diciamo a fare i miei perché devo cercare di non deludere le aspettative allora per ringraziare tutti non l'aurai fatto scrivendo a ciascuno ho pensato di fare un video in cui dirò farò un esempio di come in orologeria non ci si debba mai fidare dei siti delle case costruttrici di orologi di quello che dicono quando vantano primizie invenzioni brevetti attenzione verificate sempre con altre fonti indipendenti se questo è vero o non è vero perché molto spesso i brevetti sono il risultato non di invenzioni ma dell'acquisto di brevetti precedenti ma questa è una cosa che ovviamente le case costruttrici non dicono e quindi io volevo darvi un esempio di un'informazione poco nota nota solo a persone molto esperte di mito che in realtà non ha corrispondenza con la realtà mi riferisco a rolex se voi chiedete anche ai frequentatori di forum di orologeria italiani gran parte anche degli stranieri a voi chiede quindi persone informate non persone scelte a caso fra il pubblico ma chiedete loro chi è stato l'inventore della prima cassa efficacemente impermeabile prodotta ti diranno rolex c'è il brevetto del 1926 con cui si brevetta la cassa oyster brevetto del fondatore della rolex sì ma le cose non stanno proprio così infatti cito potrei citare molte fonti ma la fonte principale che mi piace di citare quella di marco strazi marco strazi è uno storico dell'orologeria italiano al suo attivo tante pubblicazioni l'ho conosciuto personalmente perché siamo entrambi parte di un gruppo che organizza cene di alto livello dedicato all'orologeria soprattutto vintage a cui ho partecipato tante volte e a cui parteciperò anche in futuro in cui ho ottenuto anche delle relazioni a queste cene ebbene marco strazi in realtà nelle sue pubblicazioni spiega chiaramente che in realtà il brevetto del 26 del fondatore di rolex ma non è invenzione di rolex perché infatti la storia dell'orologio da polso impermeabile è più complicata e cercherò di riassumerla per sommi capi per capi principali dunque noi sappiamo che c'era un sistema di cassa impermeabile della ditta sima spero che la pronuncia sia giusta in realtà sima è proprio francese è scritto con la y è una casa che ha avuto un ruolo storico importante e credo che il marchio sopravviva anche oggi anche se non so bene con che tipo di orologi ma la casa assolutamente importante nella parte più nobile dell'orologeria della storia dell'orologia meccanica partire dagli anni dieci la sima crea una sorta di guscio in cui si inserisce la cassa di un orologio questo guscio impermeabile piccolo problema quando bisogna ricaricare l'orologio bisogna estrarre la la cassa dal guscio quindi non è pratica come soluzione nel modo più assoluto nel 1916 una casa chiamato giga gigax perché la x in francese si pronuncia brevetta la prima corona vita ed è un'invenzione assolutamente fondamentale per arrivare ad un orologio impermeabile 1916 il brevetto quella corona vita sarà poi perfezionata da per go per e nel 1925 quel brevetto della corona vita sarà acquistato da rolex nel 1926 e a quel punto rolex il fondatore di rolex ans wind source scusate lo pronuncio malissimo brevetterà appunto la cassa impermeabile ma attenzione perché in realtà la storia ancora più complicata di come sembra adesso infatti se vogliamo vedere i primi veri brevetti di cassa avvitata e corona vite i primi veri le prime vere casse prodotte in grande numero con cassa avvitata e corona vite non sono degli attori che ho citato ma sono di un costruttore new yorkese di casse che si chiama depoli e che a partire dal 1916 fino al 1919 deposita molti brevetti sia per la corona vite sia per la cassa avvitata depoli e jacques depoli e è fornitore di casse della waltman waltam che è un'azienda statunitense di orologeria che tra l'altro è stata è rinata nel 2014 non so però oggi cosa produca ma waltam era un grande costruttore di orologi uno di quei costruttori di orologi che mise in crisi la svizzera e che obbligò i costruttori svizzeri all'industrializzazione spinta per poter essere competitiva con gli orologi americani waltam forniva gli orologi all'esercito degli stati uniti nel 1919 waltam deposita la cassa efficacemente impermeabile appunto con corona vite fondello avvitato e con un sistema anche che riguardava la lunetta c'erano delle guarnizioni che con un liquido idrorepellente diventavano impermeabili ma non è solo un brevetto perché waltam produsse tantissime di questi orologi con le casse depoli e tante tante e furono usate alla fine della prima guerra mondiale della grande guerra dall'esercito americano non solo ma c'è di più depoli e il costruttore fornitore brevettatore delle casse fu anche quello che in un certo senso inventò le sponsorizzazioni delle imprese perché nel 1919 depoli e affidò a un aviatore americano il cui cognome è un po impronunciabile quindi non lo pronuncio cioè faccio fatica a pronunciarlo quindi evito però per chi vorrà naturalmente poi si trova anche su internet a cercare bene queste cose ma insomma praticamente ci fu un aviatore americano che nel 1911 andò fino a salì col suo aereo siamo agli albori dell'aviazione a 11 mila metri d'altezza e depoli e per pubblicità e anche per una prova diede una delle sue casse quelle che poi equipaggiano gli orologi waltam la diede a questo aviatore che quindi arrivò a 11 mila metri circa 33 mila piedi e quindi la cassa resistete allo sbarzo di pressione e anche allo sbarzo di temperatura perché si arrivò a 44 gradi sotto zero senza condensa in realtà come sapete allora non c'erano le immersioni come attività ricreativa era un'attività militare infatti gli orologi waltam con cassa depoli e erano usati dai militari alla fine della prima guerra mondiale lo stesso depoli e pubblicità questa impresa di questo aviatore americano sui giornali mostrando questa cassa che aveva resistito e mostrando tra l'altro uno di questi orologi waltam con cassa depoli e immerso in una vasca con i pesci vi ricorda niente è lo stesso intento pubblicitario che spin se rolex a fare anni dopo la stessa cosa questo è quello che vi posso dire quindi la realtà è che rolex non ha inventato la prima cassa impermeabile non ha inventato la corona vite non ha costruito in grande numero le prime casse impermeabili non le ha sperimentate non ha inventato neanche il modo di sponsorizzazione che poi ha reso rolex così importante è la mia una crociata contro rolex assolutamente no io stima di rolex rolex è un produttore molto grande molto serio molto molto serio molto più serio di tante case di alta orologeria che sono in circolazione perché rolex fornisce un'alta qualità malgrado una produzione non solo industrializzata ma addirittura automatizzata dei livelli come quasi nessun altro rolex è un'azienda che investe tantissimo nel processo produttivo e e nel ridurre i costi del processo produttivo ma non a scapito della qualità ed è un'azienda che fa a un'assistenza seria dei suoi orologi sono di alta qualità è un anche delle poche aziende che ha migliorato la qualità dei propri orologi mi riferisco soprattutto alle finiture esterne alla qualità percepibile esterne di casse bracciali non c'è paragone fra i c fra gli orologi dopo il 2011 e quelli ante 2011 proprio non c'è paragone poi resistevano anche gli altri ma avevano un aspetto i bracciali i finali dei bracciali le casse molto molto più cip e meno rifinito certo i calibri non sono molto rifiniti ma comunque non sono neanche grezzi e attenzione malgrado abbiano il gallo chiuso e giustamente a una produzione manifatturiera seria io a rolex posso rimproverare da appassionato solo una cosa che ha scelto da un certo momento in poi di non innovare più cioè rolex è basata su una continuo perfezionamento di ciò che è già esistente un perfezionamento molto lento rolex non produce grandi complicazioni meccanicamente anche lì affina ad esempio rolex ha introdotto recentemente quattro anni fa e lo sta estendendo a tutta la gamma un nuovo scappamento ma attenzione sempre e sempre la leva l'ancora svizzera solo con una geometria un po' diversa che dice rolex ha una migliore precisione rolex introdusse col movimento di manifattura del daytona nel 2000 la spirale paracroma quella blu oggi dal 2016 ha cominciato a introdurre un'altra spirale che è fatta con una componente di silicio però diciamo in termini di innovazione orologera quella grande beh dopo il submariner nel 1953 poi gmt eccetera non parliamo del daytona manuale del 63 62 come di una grande invenzione perché in realtà il daytona manuale di quegli anni che oggi vale tantissimo è in realtà un cronografo molto paragonabile a quello a tutti gli altri cronografi di case anche come oyer per esempio oyer per esempio quindi non era quella un'innovazione fu più un'innovazione il daytona nel 1988 il primo automatico col movimento zenith è il primo modificato da rolex perché perché almeno dal punto di vista estetico quell'orologio diceva qualcosa di nuovo e soddisfava una ambizione di tante persone quindi senza il daytona di rolex l'orologeria meccanica non sarebbe rinata come rinata perché è vero che è stato swatch a salvare l'orologeria svizzera anche rolex ha dato un suo contributo con il mito del daytona prima e poi con tutto il resto quindi io certo da appassionato di meccanica sofisticata rifinita manualmente posso dolermi della scarsa quantità di complicazioni l'orologio rolex più complicato insieme al allo job master e al daytona cronografo di manifattura è lo skyduler cioè il calendario annuale gmt che è un orologio che ha una platina di calendario interessante ma anche lì non è proprio così originale perché in realtà quella platina assomiglia moltissimo al journa octa calendario annuale un orologio che io possiedo e che ha proprio un sistema planetario simile a quello di rolex tra l'altro nel caso di journa il movimento è addirittura il calendario è semi integrato mentre il caso di rolex fosse una platina aggiuntiva quindi a me dispiace che non si sviluppino nuove complicazioni che una casa così grande e ricca di mezzi finanziari non faccia di più per l'innovazione meccanica per l'innovazione anche estetica nell'orologeria ma dal loro punto di vista loro hanno ampi margini hanno le file no le liste d'attesa per avere i loro orologi quindi dal loro puntista non li si può criticare ma certo da appassionato mi viene da dire è un'orologia un po micraniosa è un'orologeria che spesso ti fa pagare tantissimo i metalli delle casse io non riesco per esempio a spiegarmi come sia possibile che un dai toni in acciaio in listino a listino venga circa 12 mila euro poi in realtà il prezzo è vero sarà sui 20 mila o forse qualcosa di più mentre il dai tona con casse preziose passano abbondantemente i 30 quelle in platino addirittura arrivò a 60 mila euro e il caso dello skyjoule era ancora più clamoroso perché quelli in oro sono sopra i 30 mila di listino quelli in acciaio fu messo a 12 mila allora qui anche l'appassionato Rolex dovrebbe un po riflettere perché se tu attribuisci al materiale della cassa 20 mila euro vuol dire che in realtà se prendi lo skyjoule in oro in realtà 20 mila di quegli euro che spendi sono in cassa il materiale della cassa che vuol dire che quello che resta il prezzo dello skyjoule acciaio che non è particolarmente diciamo bello per chi come me vede nel movimento il cuore dell'orologio non l'unico elemento essenziale ma il cuore dell'orologio parti tutto da lì e rolex non non investe su questo non dà tanto migliora ma non non fa quello che potrebbe fare però a grande successo e nell'ambito dei suoi prodotti i prodotti sono seri e mentre altre case hanno ridotto la qualità loro delle due l'hanno pure aumentata poi ci sono i farsi miti come questo per carità e intendiamoci la cassa d'epoli e perché alla fine allora prima di tutto volta pian piano si è spenta come costruttore la cassa d'epoli e non ha avuto l'eco che ha avuto la cassa che ha avuto successivamente la cassa oyster anche perché era più costosa da realizzare merito di rolex è stato quello di avere industrializzato un sistema meno complesso di questo con le guarnizioni con liquido idro repellente eccetera un sistema sicuramente più valido più economico da essere prodotto in grande serie ma in realtà le basi c'erano già tutte gli orologi c'erano già stati anni primi brevetti anche e rolex ne comprò uno e riprese le idee migliori le sviluppò ma sostanzialmente l'orologio impermeabile non solo era già stato inventato era già stato costruito in grandi numeri era già stato utilizzato addirittura durante la prima guerra mondiale e quindi non è un'invenzione di rolex eppure rolex ha fatto conoscere e ha imposto l'orologio impermeabile in tutto il mondo sta al punto da diventare simbolo e anche chi è in grado di prendere innovazioni precedenti di portarle alla ribalta e di farne degli successi mondiali beh ha i suoi meriti non c'è dubbio ma non si può dire che abbia inventato l'orologio impermeabile come lo conosciamo cioè con corona vite con cassa e fondello avvitato non è non è non è non è quello che l'ha inventato come ho detto il brevetto della corona vite è del 1916 di gigax migliorato poi da perre pergo nel 1925 poi comprato da rolex e nel 1919 dal 16 al 19 ci sono i brevetti di depaulier che forniva le casse a voltam che ne produsse in quantità e furono usate durante la guerra ecco io mi fermo qui con questo video è stato anche più lungo del previsto ma era proprio un video così di getto voglio dire una cosa che sicuramente non è mai stata detta in video sull'origine degli orologi impermeabili mai è stata detta credo e la voglio dire la dico volentieri come regalo come omaggio a tutti gli incoraggiamenti che ho avuto per questo canale come avvio di questo canale ma naturalmente i prossimi video parleremo di attualità parleremo di complicazioni meccaniche ecco io tengo molto d'occhio anche l'attualità e anche le notizie relative al mercato all'andamento dell'industria dell'orologeria e parleremo anche di questo la visione bisogna averla complessiva io cercherò in video spero brevi di dare sprazzi di questa visione complessiva storica ma anche del presente e magari facendo qualche previsione sull'avvenire sapendo che le previsioni sono la cosa più fallace che ci possa essere quindi scusate per questo video improvvisato ma volevo farlo volevo farlo per ringraziare anzitutto e per dirvi che fra pochi giorni ci sarà un nuovo video grazie per avermi seguito grazie per la fiducia vi abbraccio al prossimo video